Il governo sta bloccando tutte le infrastrutture che abbiamo deciso recentemente di realizzare in Emilia-Romagna. Ma come Bonaccini? Ancora con questa fake news? Recentemente? Ma saranno almeno vent'anni che si parla di queste grandi opere inutili. Prendiamo per esempio il Passante. Nel 2003, Passante Nord, i soldi arrivano nel 2006. Presto partiranno i lavori sulla tangenziale. Nel 2005, parte davvero il Passante Nord, la firma mercoledì. Nel 2011, ok al Passante, appalto entro settembre. Nel 2016, ok al Passante di Mezzo, del Rio, lavori nel 2017. Bonaccini basta fare del terrorismo. Il governo sta lavorando con responsabilità e ha già inoltrato alcune ipotesi ad autostrade che sono molto meno impattanti sulla salute dei cittadini e mirano a risolvere il problema del nodo bolognese. Come non parlare dell'autostrada Cispadana. Stamattina Bonaccini era di nuovo sui giornali a chiedere sempre al governo di essere ascoltato. Anche questa è un'opera di cui si parla da almeno vent'anni. Vi leggo solo alcuni titoli di giornale. Nel 2006, adesso la regione fa sul serio. Nel 2010, Cispadana, ecco la firma, pronta nel 2016. Nel 2014, Renzi, sblocca la Cispadana. Sempre nel 2014, Bonaccini, cantiere aperto nel 2015. Come sapete il Movimento 5 Stelle non vuole questa grande opera inutile, ma è favorevole a una superstrada a scorrimento veloce senza costi aggiuntivi per i cittadini. Il presidente Bonaccini però, che aveva promesso quei 200-300 milioni che mancano per la realizzazione dell'opera, dove troverà questi soldi? Quali servizi essenziali vuole tagliare ai cittadini emiliano-romagnoli? Problemi irrisolti da oltre 20 anni che oggi il presidente di questa regione pretende che sia il nuovo governo a risolvere. Ma come si sarebbe comportato Bonaccini se oggi al governo ci fosse stato ancora il Partito Democratico? Grazie.